Eder. Mech. Pallister. È definitivo. Giustizia è stata fatta per Pamela Mastropietro, la ragazza orrendamente uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018. Lo hanno deciso i giudici di Cassazione. Ergastolo per innocento segale accusato di omicidio e violenza sessuale per la morte di Pamela. Per lui nessuno sconto di pena. Aspettava questo momento da sei anni la madre di Pamela ed era quello che sperava, ma non si fermerà qui perché sa che ci sono eventuali altre responsabilità. Lo ha detto Alessandra Verni, la madre di Pamela Mastropietro dopo la sentenza della Cassazione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Alessandra Verni, la madre di Pamela Mastropietro dopo la sentenza della Cassazione. Alessandra评 Grazie.